Il mio figlio è il loro pedito, più o meno sceglie un altro più bello, la casa è dove mi ha portato a rito. Il messaggio mi dice se vuoi lavorare e non mi farei padre a me figlia. Quando t'adesi io era una guacchia, ora mi ha resso miglia una radicchia. La murica mi dà se ti lo donno, ciuri, ciuri, ciuri di tutto l'anno. La murica mi dà se ti lo donno. L'estate sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carolta, ci volando se ne va. Io mi scorre lento, salgisante. La murica mi dà se ti lo donno, ci sono deserte e silenziose, un'ultima carolta, ci sono deserte e silenziose. La murica mi dà se ti lo donno, ci sono deserte e silenziose, un'ultima carolta, ci sono deserte e silenziose. Le voglio bene. La murica mi andava ogni pomeriggio in chiesa per la messa, siccome era solo poveretta aveva il cane che le faceva compagnia e questo cane da seguire si poteva mettere accanto alla vecchietta. Gli altri fratelli si lamentavano, mi diceva, ma che è questo cane ogni sera qua? E sono andato a lamentarsi con il sacerdote. Il sacerdote le chiamano alla vecchietta e le dice, signora, lei non può portare ogni sera il cane qua? C'è chi lo lascia qua a casa. Siccome il cane la seguire, non lo vuole lasciare, non va più in chiesa. Dopo un po' di giorni il sacerdote si sente di dovere di andarlo a trovare. Ma chi sta male? Perché non viene? Andava a trovare, le fa una visitina e le chiede, signora, come mai non si è vista più in chiesa? Ma lei mi ha detto che non posso portare il cane, dice, quindi io non posso venire. Dice, anzi, dice, il padre, dice, mentre qua, me lo patteggio il cane. Ma che dice, signora, il cane è un animale, me ne patteggio il cane. Dai, se me lo patteggio io le do 5.000 euro. Ma no, 5.000 euro, no, non lo posso fare. E poi ce le pensa, dice, ma io con 5.000 euro quanto bene posso fare? Quante persone bisognose ci sono in barrotta? Quante parole di famiglia che hanno bisogno? Quante persone posso aiutare? Dice, va bene. Ci pensa, dice, il bene che posso fare? Dice, va bene, darò un patteggio. Vabbè, darò un patteggio, se vende 100.000 euro e se ne va a casa. Come si è da un patteggio? Ecco, diciamo. In un paese voi sapete che niente si fa, che non si viene a servire. Lui viene a servire il vescovo. Manda a chiamare per 6.000 euro. E lo richiama, dice, ma che hai fatto? Dice, hai pattezzato un cane? Dice, andate sempre al gusto, ma non è corretto. Ma senta, eminenza, sa con 5.000 euro quanto bene che ho fatto? Quante famiglie ho aiutato? Il vescovo ci pensa. Dice, allora devi dire alla segnala che se mi dà 10.000 euro, io glielo ho preso. E' più lontano la luna o l'Australia? E Pierino risponde, l'Australia. Come mai tu dici l'Australia? E scusa, la luna riusciamo a vederla, l'Australia no. Pierino, quanti anni hai? 10 anni, perché? Ma non ne avete 11? 10 anni, sì, ma visto che sono stato baciato ne ho perso uno. Brava, brava. Pierino, perché hai scritto cammino con la cappa? Ma perché non esistono cammini senza cappa? Ma manca il cittierino. Ora quelli del carabiniere. Cosa fa un carabiniere con il cucchiaio in mano fuori dal finestrino della macchina? In bocca una curva. Ci sono due carabiniere davanti allo specchio. Uno dice all'altro, guarda, due colleghi. Andiamo a salutarli. E l'altro, no, fermo, stanno vedendo loro. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E l'altro, no, fermo, stanno vedendo loro. Il frutto del tuo seno, Gesù. Sì. E l'altro, no, fermo, stanno vedendo loro. Il frutto del tuo seno, Gesù. Un frutto del tuo seno, Gesù. Il frutto del tuo seno, Gesù. E il frutto del tuo seno, Gesù. Un frutto del tuo seno, Gesù. Ok. Schiù. La guerra è. Dico santo che è vero, Questa è un po' di raggi di questa sermolina, Spenda su una cuota, a Giorgio di prima che si rimane in pace tra la passata tra la passata per la terza preghiera si tratta a Maria il peccato dei peccati Maria Santissima Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne benedetto è il frutto del tuo seno Gesù a quanto vale la cupa? fermano il Cristo a troppo a me mi mettono fuorso di te è vero Santissima che il dono è assai un moschino ma qualunque esso sia siamo sicuri che tu lo accetterai perché tu sei madre dell'umanità e non ti sogni di rigenere anche a me nel fiorettino del campo è 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